Ma che cos'è il bodybuilding? Che cos'è? Cioè, non hai pensato come definisci il bodybuilding, il culturismo, che dir si voglia? Perché c'è chi dice, il bodybuilding è uno sport, il bodybuilding non lo è, uno stile di vita, un opening, uno gain, quello che ti pare. Allora, ho pensato perché questa domanda mi è stata fatta e faccio un video breve con voi, voglio condividere alcune riflessioni, perché secondo me sono molto importanti. Ho cercato di dire, ok, Ludo, rispondo a questa domanda, che cos'è il bodybuilding? Prova a ragionare, ragiona, ragiona e scrivi quella che è una definizione, secondo te, di quello che è il bodybuilding, perlomeno come lo vivo io, ok? Quindi oggi ve la voglio condividere, perché secondo me poi si accendono tante lampadine qua, quindi ragioniamoci insieme e soprattutto prima di iniziare scrivimi qua sui commenti la tua definizione del bodybuilding, metti pausa adesso, ragionaci e dici, ok, come lo definisco il bodybuilding? Non dire, ah, è uno sport o non è uno sport, però è una definizione tua intima. E poi metti iscriviti alla pagina YouTube, perché ragazzi c'è un network di tantissime persone che vedono i video, ma non mettono iscriviti. Per te non costa niente, però a noi dà veramente una mano importante. Quindi iscriviti e parto, ti dico la mia, ok? Me la sono scritta qua, se non me la scordo, figurati con la testa che ho. Allora, secondo me il bodybuilding è la scienza e l'arte dell'utilizzare resistenze esterne per modellare il corpo secondo specifici canoni estetici, ok? Scienza e l'arte è l'utilizzare resistenze esterne per modellare il corpo secondo specifici canoni estetici. Questo è quello che secondo me è il bodybuilding. Ossia, partiamo passo passo. Bodybuilding è la scienza e l'arte. Questa è, credo, il punto fondamentale, che mi piace molto e che ho voluto inserire perché. Perché è inevitabile andare a identificare quello che è tutto un percorso di preparazione del bodybuilding come una componente fortemente scientifica e una componente artistica. Ora, io ho fatto tanti anni, veramente tanti, tutta l'infanzia, eccetera, armonia e composizione. Ho studiato musica. E il mio insegnante di musica, questa è una cosa che ho già detto su YouTube più volte, mi ha detto una frase che io credo che, che poi me la sono riportata perché si applica a tantissime cose, anche nel bodybuilding. Ossia mi ha detto, vedi Ludo, noi vedevamo le prime scale, quelle semplici, eccetera, poi ogni scala che inserisci, la scala blues, la dodecafonica, questa, quest'altra, eccetera, ci sono tutte deroghe alle regole della pentatonica classica, no? La scala quella maggiore, no? Di Mozart, eccetera. Ci sono tutte deroghe, no? Quindi quelle note un po' strane, quella musica un po' strana che senti e tutto. E sono note particolari, tutte sono deroghe, deroghe. E alla fine arrivi alla dodecafonica, che sono tutte le note messe là in un specifico ordine, è quasi matematica, no? E il mio insegnante mi ha detto, vedi Ludo, in realtà nella musica puoi fare quello che vuoi, alla fine, cioè puoi fare quello che te pare. L'importante è che tu lo faccia con logica. E questo è il motivo per cui la musica non sarà mai, mai portata avanti da scienziati, ma sarà sempre portata avanti da artisti. Quindi scienza e arte ci sono. Non si può negare che nella musica ci sia tanta scienza, a partire dagli strumenti, a quello che c'è dietro poi, le note, gli intervalli tra le note, eccetera. Cioè si fa una scienza della musica. Nel bodybuilding è la stessa cosa. C'è tanta scienza, perché parliamo del nostro corpo, delle reazioni più intime, biochimiche, di quello che il nostro corpo fa quando è sollecitato, quando è sottoposto a dei stressor veramente importanti, è messo in condizioni veramente, veramente estreme. Quindi la scienza ovviamente ha un ruolo. Però l'altro ruolo importante è l'arte. Perché quello di cui mi sono reso conto sempre di più con gli anni, con l'esperienza, è che molto spesso appunto puoi fare quello che vuoi. L'importante è dargli una logica. Una logica che ovviamente ha una spiegazione, se vogliamo, scientifica, però è una logica che in primis trova una sua felicità in un'espressione artistica del preparatore o dell'atleta. Cioè proprio il fatto di scegliere, di fare, ok, guarda, fammi uno scarico. E funziona. La scienza mi dà mille ragioni possibili per fare mille cose diverse. Ma l'artista ti dice, fai uno scarico questa settimana e vedi che funziona, che recuperi. O l'artista ti dice, metti questa ricarica, quanti? 550 grammi di carbo, 1800, 900, quello che ti pare. L'artista riesce a sapere esattamente, poi la scienza ti dà mille motivazioni e ti dà tante possibili strade. Ma l'artista è quello che poi riesce a portare il risultato finale, riesce a fare queste scelte che sono quasi più, appunto, artistiche, intuitive. Di a sentire il motivo per cui poi tanti preparatori hanno tanto successo e non capiscono un cazzo a livello scientifico. Manco loro lo sanno perché succede. E non ho mai visto un preparatore, diciamo, che si basa esclusivamente sulla scienza, cioè che cerca di portare, di fare qualsiasi ragionamento sulla base di variabili scientifici e solo quelle riuscite ad arrivare ad altissimi livelli. Magari medi livelli, perché c'è tanti atleti, eccetera. Ma gli altissimi è sempre un'intuizione. Molto spesso si dicono, per cui quel preparatore è così vincente? Perché ha questa vena artistica. E non può non esserci. Quindi l'arte è la scienza del utilizzare resistenze esterne, che possono essere pesi, dischi, possono essere elastici, possono essere kettlebell, possono essere il proprio corpo. In alcuni è una resistenza esterna, comunque. Per alcuni può essere il proprio corpo, no? Che in alcuni movimenti, nelle dips, nelle trazioni, eccetera. Quindi resistenze esterne. Per modellare il corpo, attenzione, non per un canone di bellezza. No, no, no. Secondo specifici, canoni esterni. Quindi io modello il mio corpo non perché su Instagram devo essere più figo, perché la schiena è carente. No, no, no. Io ho un specifico canone. Ossia ho la mia categoria, la federazione. La federazione mi dà il canone di categoria. Io dico, guarda, tu hai la schiena grossa, quello che cazzo ti pare. Ti vedi bene. Ma in questa posa, da canone, dovresti essere più così, e quindi lavoriamo in questa direzione. Meno cosa. Più così, meno cosa. Cioè è uno specifico canone. E questo è il motivo per cui molte persone ho difficoltà a rispondere a alcune domande come come avere la schiena più grossa. Beh, schiena più grossa. Quali sono le pose in cui devi migliorare? Poi schiena più grossa, poi fa un po' di tutto. Cioè nel senso allena la schiena con efficacia, connessione mente-muscolo, questo. Però dimmi le pose. Lut spread posteriore, o anche una lat spread frontale. Dov'è la carenza? Doppio bicipite posteriore. Ok, vediamo le pose. Vediamo dov'è la carenza. Ok, la carenza in questo distretto specifico hai abbondanza di quest'altro distretto, allora è uno specifico canone a cui mi dovrei fare. Che non è un canone di bellezza. Perché quante volte ci sono atleti che voi dite ma è bello questo, proprio bello, bello. Arrivano ultimi. Perché non corrispondono a uno specifico canone di proporzionalità, di simmetria, di masse muscolari, di tiraggio. E la proporzionalità e la simmetria stanno anche nel tiraggio, nelle masse muscolari. Non soltanto nelle masse muscolari, ma anche nel tiraggio. Un atleta bellissimo, che davanti è strappato, si gira, la schiena è liscia, è un atleta che non è proporzionato. Perché è un canone di proporzionalità. Ok? E questo è molto importante. Anzi, se vi interessano i canoni di bodybuilding messi in maniera molto generica, quindi senza entrare nel vivo di ogni federazione, scrivetelo qua sotto nei commenti. Io poi su Instagram ho lasciato dei analisi di tutte le categorie dell'Olimpia analizzate, dando degli incipit, dei motivi, delle scelte. Quindi andatevi a rivedere anche quei reel, scrollate poco, c'è stato poco fa l'Olimpia, però sono molto interessanti. Ludovico.lem su Instagram, lo trovate qua sotto. E andatevi a vedere, perché là ci sono degli incipit. Però, al di là di questo, il discorso è che non devo diventare bello, non devo diventare bello su Instagram, non devo essere bello su una posa. Bodybuilding è essere completo, cioè rispettare degli specifici canoni estetici. Questa è una cosa molto importante, perché poi ci sono tantissime persone che sono bellissime su Instagram facendo alcune pose, ma non vincono sul palco, non ci vanno mai sul palco. Perché? Perché poi quando gli chiedi fammi un doppio frontale, si possono vedere. Doppio posteriore, si possono vedere. Cioè sono brutti nelle pose regolamentari che infatti non mostrano mai magari su Instagram, eccetera, sono molto belli in pose estetiche. Per cui ci sono delle federazioni di modeling per questo. Ma il bodybuilding, quello è modeling, bodybuilding, e anzi questa definizione vuole anche cercare di creare una differenza poi tra tutte quelle che sono le diverse sfaccettature bodybuilding, le diverse federazioni, eccetera, eccetera. Ok ragazzi, spero di avervi dato degli spunti interessanti con questo video un po' diverso dal solito. Fammi sapere però che cosa ne pensate. E come al solito, qualsiasi intervento e commento sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.